È stata una giornata veramente molto bella e al di sopra delle aspettative, devo dire la verità, perché ho scoperto una grandissima qualità, abbiamo avuto modo di conoscere chi fa tutto questo. Oggi è stato un grande piacere conoscere Pier Antonio, che porta avanti con innovazione la tradizione. Vedere la passione del Signo Sgambaro che ogni giorno mette nel suo lavoro mi ha aperto il cuore. Quello che mi ha colpito di più è l'attenzione per il benessere, benessere verso la persona ma anche benessere verso il mondo, comunque l'attenzione all'ambiente, la sostenibilità. Dopo questa giornata al pastificio Sgambaro ci sono più cose che mi hanno interessato particolarmente. Sicuramente quella che mi ha più colpito è stata questa attenzione verso la riscoperta dei cereali antichi. Credo che sia importante preservare e mantenere delle materie prime così importanti e ricche che il nostro territorio offre. È bellissimo anche il fatto che i grani trattati in questo pastificio siano 100% italiani. Io spesse volte penso ai miei figli e al loro futuro, quindi sono veramente molto attenta a questa ricerca. E poi la prova finale è stato l'assaggio che mi ha colpito più di tutto. La sensazione della pasta calda tra le mani è qualcosa di magico e quindi porto con me un bel ricordo. La cosa che mi è piaciuta molto è stato il gusto e il sapore che dà questa pasta. Quindi i grani antichi che poi si ritrovano nel piatto. Questa è una grande qualità che va raccontata e sta proprio a noi farlo e spero veramente di tornare presto.